Buon martedì 31 marzo 2020 di necessità virtù in questo periodo di isolamento auto isolamento quarantena abbiamo preparato ho preparato una ricetta veramente semplice che dedico a Michela N che insomma che mi ha fatto delle osservazioni intelligenti su instagram ma è una ricetta molto semplice ho preso le patate le ho bollite e tagliate come sapete insomma a dischetto ho fatto un letto su questo piatto no poi ci ho messo un po di di aceto balsamico a me mi piace sempre aggiungere un po d'olio no un po d'olio poco no poi magari ecco prendo un pizzico di sale e ce lo metto e poi qual è il tocco finale prendo sta bella mozzarella una bella mozzarella che è vi assicuro di qualità e la taggio qua la taggio qui sopra scusate ecco la metto la metto così insomma gli cerchiamo di dare anche un bell'aspetto e anche la mozzarella cerchiamo aspettiamo una scusate un attimo capite che fare tutto con gli mettiamo un pizzichino di olio perché a me mi piace poi l'olio insomma fa sempre bene ecco qua e ci abbiamo le nostre patate le nostre patate vedere le nostre patate di necessità virtù fatto con poco sono gustose d'altra parte abbiamo la mozzarella che bisogna mangiarla ogni tanto buona mozzarella buona buona la vogliamo anche ecco la vogliamo anche un po tagliare ecco ecco poi dopo ce la gustiamo tra poco e poi ci mangiamo anche le patate insomma che che servono di necessità virtù vi saluto da emanuele carioti e matiù bella notizia non dorme mai www.ematiù.it naturalmente questa ricetta io la dedico anche a tutti gli amici e le amiche di chat 56 di tele roma 56 che ogni giorno so che guardano le cose che faccio e vi bacio 56 di necessità virtù buon appetito a tutti a tutti